A due grandi doni padre Ernesto della Corte, il nostro amico biblista, quello di parlare per ore del Vangelo, della liturgia e quello di sintetizzare al massimo. Adesso abbiamo un po' più di tempo in conversazioni bibliche. Bentrovato padre Ernesto, seconda domenica di quaresima e come da tradizione ascoltiamo il Vangelo della trasfigurazione di Gesù. Grazie a voi, siamo proprio in un bellissimo cammino di questi 40 giorni perché ogni domenica, lo vorrei dire alle nostre amiche e ai nostri amici che ci seguono, ogni domenica di quaresima definisce un cammino che porta poi alla Pasqua. Noi siamo in cammino verso la Pasqua, non verso la penitenza, non verso la mortificazione solo, ma è un cammino di luce. Per cui Dio non ci dà il verbo dovere, ma ci dà il verbo potere. Il dovere l'ha riservato solo per sé. Tutto posso in colui che mi dà forza. Domenica scorsa abbiamo visto le famose tre tentazioni e siamo ora su un'altra montagna, la montagna dal deserto, siamo ora sulla montagna della trasfigurazione. È il capitolo 9 di Luca e Gesù in questa pagina direi che conferma il proprio drammatico destino. Lui usa per sé stesso il verbo dovere. Questo lo vorrei far capire perché spesso nella predicazione noi usiamo troppo il verbo si deve, devi, devi. No, il Signore Gesù ci ha consigliato il verbo potere. Voi potete in me risolvere ogni cosa perché Gesù è il figlio di Dio, mentre per lui c'è quel dovere. Egli deve essere rifiutato, deve soffrire per l'amore degli uomini. Solo dopo sarà risuscitato. L'episodio è davvero importante perché noi siamo al capitolo 9, ma dal versetto 51 solo in poi comincerà a quello che noi biblisti chiamiamo il grande viaggio, che poi lo porta a Gerusalemme. Lungo questo viaggio Gesù formerà i discepoli, ci darà delle condizioni per seguirlo giorno per giorno. Catemeran dice il testo di Luca, giorno per giorno, ogni giorno ha il suo affanno. E lui rivela queste condizioni, che sono condizioni da vivere nell'impegno feriale. Se uno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e segua le mie orme. Sono delle clausole molto forti, le chiamiamo le clausole di Luca, a cui poi aggiunge altri due. Chi si vergogna di lui, cioè lo rifiuta come figlio di Dio, come Signore, sarà rifiutato nel giudizio finale perché si toglie da questa comunione. E un'ultima condizione, in 927, gli autentici discepoli possono già fare esperienza del regno, pur dovendo attraversare la morte. Oggi questa pagina, amiche e amici carissimi, ci dà una grande luce. Noi possiamo sperimentare la Pasqua. Ecco perché Luca, lo vorrei ricordare anche ai sacerdoti, di non saltare questo incipit. Otto giorni dopo. In realtà poi il testo dice in quel tempo. No, no. Otto giorni dopo, dice il testo di Luca. Perché lo sottolinea? Perché otto giorni dopo queste clausole che Gesù ha dato ai discepoli avviene l'episodio della trasfigurazione, che è rivelazione piena ai discepoli e che ha come oggetto proprio il significato profondo, nascosto della persona e dell'opera di Gesù. Oggi noi siamo messi davanti alla sua identità. Non è soltanto l'anticipo della futura resurrezione, ma di ciò che Gesù è già adesso. Lui è già il figlio di Dio, oltre che il figlio dell'uomo. Quindi la pagina di oggi potremmo definirla una chiave di lettura per cogliere la vera natura del Cristo. Ma la trasfigurazione è anche manifestazione dell'identità profonda di Gesù, di tutta la sua opera. Ed è anche una rivelazione della identità del discepolo. Perché solo insieme con Gesù, se ci mettiamo in cammino dietro di lui verso Gerusalemme, potremo attraversare anche nella morte e ricevere il dono della resurrezione. Ecco perché Luca, rispetto a Marco e a Matteo, mette due piccole particolarità che sono proprio sue. Innanzitutto l'accenno alla preghiera. Lo dice proprio in 928, quando esplicita questo versetto e dice così, circa otto giorni dopo questi discorsi, le clausole, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. In Luca Gesù continuamente prega. L'ho sottolineato anche domenica scorsa. Dobbiamo ritornare, come diceva Padre Pio, a pregare continuamente. Quindi l'accenno alla preghiera. C'è questo contenuto così importante. Preghiera significa mettersi davanti a Dio, relazione con Dio. E un secondo particolare di Luca. Luca ci dice di che cosa hanno parlato Mosè e Elia insieme a Gesù. Lo dice al versetto 31, quando aggiunge «Apparve Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano del suo esodo che stava per compiersi in Gerusalemme». L'esodo, cioè il trapasso, questo attraversamento della morte che doveva avvenire a Gerusalemme. Quindi la trasfigurazione è certamente un anticipo della gloria, ma che serve anche a noi uomini per aiutarci a vincere la paura della morte. Come si vince la paura della morte? Con la forza della preghiera. Vedete, torna sempre forte l'invito anche del nostro padre Pio, perché è anticipazione di quella comunione che ci attende. Noi siamo in cammino verso quella comunione. Ma attenzione, dice Gesù ai discepoli e a noi, la trasfigurazione non può essere trasformata in qualcosa di stabile. Non si possono costruire le tre tende, cioè non possiamo restare in quella situazione. Per arrivare a quella luce permanente della Pasqua, noi dobbiamo attraversare la notte della croce. È breve quella notte, ma dobbiamo attraversarla. Ed è la voce del padre che ce lo spiega. «Questo è il figlio mio, l'amato». Ascoltatelo. Questa volta, rispetto al battesimo, parla a noi. Che cos'è il cammino discepolare? Ascolto, ascolto, ascolto di Gesù. Questo è il fondamento della fede. Senza ascolto, l'ha detto Paolo, Romani 10-17, non c'è fede. Ma questa scena, vorrei anche sottolineare questo, Anna Maria, perché non se ne parla, è una sorta di rafforzamento vocazionale, proprio per i discepoli, rappresentati da Pietro, Giacomo e Giovanni. Ci siamo anche noi su quel monte. Perché Gesù li ha guidati, potremmo chiamati sul monte del paradosso. Oddio, che vuol dire? Il luogo dove il cammino di passione del figlio dell'uomo appare illuminato dalla sfolgorante luce della gloria. Non è gloria solo attesa, quasi a dire quando finirà il male. Non è gloria evasiva, come se non ci fossero disgrazie o attraversamenti da fare. È una gloria crocifissa. Ecco questo ossiboro, due concetti contrapposti. Nel cammino che porta verso la sua morte, Gesù ci rivela la sua figliolanza divina. Lui è il vero figlio dell'uomo, cioè è veramente uomo, ma è anche il figlio di Dio. È Dio. Una cosa ancora colpisce in questo testo, il silenzio dei discepoli. Infatti, a un certo punto, nel capitolo sempre nuovo, versetto 36, Luca aggiunge. E mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo. E i discepoli tacquero, fecero silenzio. E in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. Colpisce questo silenzio. Si mettono a tacere, restano in silenzio. Perché? Perché Luca vuol far capire che la voce importante è stata quella del padre. Questo è il figlio mio amato, ascoltatelo. Scende oggi un profondo silenzio. Nemmeno noi dobbiamo parlare troppo. È il momento dell'ascolto. Solo dopo Emmaus, quando Gesù, risolto, si mette a camminare insieme con loro, gli apre le scritture, gli apre il cuore e la mente, solo allora potranno parlare e testimoniare che Gesù è il Signore. È il cammino quaresimale. Che stiamo facendo anche noi. In attesa di stare sulla via di Emmaus, quando Gesù ci spiegherà tutte le profezie parlavano di lui e di come davvero l'attraversamento della morte è stato fatto da lui e lui lo condividerà con ognuno di noi. Se seguiremo le sue tracce, le sue orme, se avremo un continuo rapporto d'amore continuamente con lui. Insomma, l'invito c'è stato ad avere uno sguardo capace di andare oltre, uno sguardo capace di guardare e puntare in alto, grazie a questa, al Vangelo di oggi. Ti ringraziamo. Però guarda, quando diciamo uno sguardo verso l'oltre, tu hai ragione, ma chissà la gente che cosa capisce. Oltre significa bypassare la vita di ogni giorno, ma attraversarla. Andare oltre significa attraversarla. Se c'è una galleria, che fai sulla strada? Ti fermi? Forse puoi salire sulla montagna? No, l'attraverse. Andare oltre significa attraversare la vita con uno spirito di gioia. Da Dio certamente viene ogni grazia e noi dobbiamo confidare in Lui. Ecco che cosa ci insegna la preghiera. Confidenza nel Signore. Padre Pio in questo è stato veramente un grandissimo testimone, sempre con la corona in mano, sempre col cuore in Dio. La preghiera è una potenza divina, diceva lui. Ecco, noi dovremmo riscoprire di essere una chiesa del maggiore silenzio. Anche quando entriamo in una chiesa, non facciamo baccano. La chiesa non è casa nostra, è casa di Dio. E quindi dovremmo anche capire la trascendenza del Signore, metterci con umiltà a pregare, come faceva quel povero peccatore che si mise all'ultimo posto. Signore, abbi pietà. Io sono un peccatore e il Signore ci risponderà come non manca mai di fare. Con uno spirito umile, ma di gioia. Grazie Padre Ernesto. Buona Pasqua alla settimana a voi e buona domenica della trasfigurazione. Anche a te, shalom. Shalom.